buongiorno ragazzi e bentornati sul canale oggi parliamo di come creare una bella scheda di allenamento per principianti obiettivo forza ipertrofia o in generale uscire dalla condizione di principianti e di come creare questa scheda ne parliamo dopo la sigla premessa premessa anzi quattro premesse se vi piace la scheda che vi proporrò seguitela possibilmente senza modifiche fidatevi se non vi piace non fatela se volete modificarla modificatela ma senza chiedermi se va bene e se non sapete da che parte girarvi c'è il link per il coaching online detto questo come creare una scheda per principianti allora partiamo proprio dall'inizio cercherò di guidarvi passo passo nelle logiche che ci sono dietro allora per prima cosa dividiamo i movimenti del corpo umano in tre la spinta trazione e gambe fatto questo li dividiamo ancora ognuno in due spinta orizzontale e verticale tirata orizzontale e verticale e gambe movimento quad dominant focus quadricipiti e movimento focus ip focus ip dominant quindi estensione da lanca e ora abbiamo sei movimenti tre li mettiamo in una giornata e tre li mettiamo in un'altra indicativamente un movimento di spinta sopra la testa o orizzontale coinvolge gli stessi muscoli da più enfasi a uno rispetto all'altro però sempre a petto del toy di tricipiti sono coinvolti idem tirata orizzontale e verticale idem gambe dominant quad dominant c'è una maggiore enfasi in uno piuttosto che in un altro però sempre di quello si sta parlando allora giornata 1 giornata 1 mettiamo spinta orizzontale tirata orizzontale e gambe quad dominant quindi la dividiamo così e scegliamo per ogni gruppo vi faccio vedere con uno schemino due esercizi il primo esercizio sarà un big un esercizio composto in cui cercare di migliorare quindi ipoteticamente sarà panca per la spinta trazioni e squat in questi esercizi cosa faremo cercheremo un range medio basso 3 4 7 per 5 8 ripetizioni in cui l'obiettivo settimana dopo settimana o sessione dopo sessione meglio sarà di cercare di aumentare il peso quindi io limiti tecnici ovviamente ogni settimana cercherò di fare un po di più senza farmi male pulizia tecnica però cercherò tutte le settimane di fare un po di più ogni volta che riesco quindi se settimana scorsa 4 per 8 l'ho fatto bene settimana prossima proviamo a fare il 4 per 8 con un po di chili in più e così via ok il secondo esercizio della seduta per gruppo muscolare sarà invece fatto alle macchine o comunque in condizioni un pochino più sicure diciamo in cui è possibile curare un po meno la tecnica e sarà fatto in un'altra ottica ottica chiamiamola ipertrofia quindi dopo la panca andiamo a fare un access press che richiede meno come dire attenzione tecnica e andiamo a cercare in questo caso sempre cercando di fare un 3 4 per 8 12 questa volta ogni settimana proviamo ad aumentare il set che so facciamo prima un 3 per 8 4 per 8 5 per 8 se riusciamo anche un 6 per 8 e poi ricominciamo da capo e così via cambiando esercizi magari in questa scelta degli esercizi esercizi guidati esercizi anche a corpo libero tipo i push up esercizi in cui come dire è facile tra virgolette pompare passatemi il termine se non avete la macchina ad esempio potete fare i push up come dicevo e per gli altri esercizi uguali quindi facciamo propedeutica magari alle trazioni con lazy power elastici eccetera poi andiamo alla lat machine facciamo lo squat e poi andiamo a fare il leg press una volta come secondo esercizio avrei messo esercizi di isolamento e cose così però mi sono accorto nel tempo che un principiante ci trae poco quindi meglio fare un esercizio tecnico in cui magari è ancora difficile esprimere bene il proprio potenziale però intanto lo si impara e poi si va a pompare stessa cosa nel giorno b quindi scendiamo scegliamo un esercizio hip dominant e poi andiamo a fare un esercizio focalizzato sempre sul pompare e così via anche in altri esercizi nei vari giorni poi mettiamo le cose che mancano che tutti vogliono ovviamente quindi bicipiti e tricipiti potete scegliere se fare tricipiti un giorno e bicipiti nell'altro oppure tricipiti e bicipiti a fine di entrambe sedute vanno bene entrambi gli approcci quindi come vi piace di più sono quasi convinto che sceglierete tutti la seconda chi decide di fare questa scheda ora questo è il programma ogni 4-5 settimane magari fate uno scarico ovvero fate metà delle serie e magari caricate un pochino di meno e cercate di cambiare dopo aver fatto lo scarico quindi nei 5-6 settimane di cambiare il secondo esercizio mentre cercate di provare a continuare a progredire tecnicamente sicuramente manca a livello di chili nel fondamentale perché quindi qui l'obiettivo da un lato è migliorare tecnicamente migliorare la forza migliorare chili coordinazione eccetera che per un neofita è fondamentale ma dall'altro canto anche non perdersi troppo nei dettagli quindi ok che stiamo facendo la nostra panca la stiamo imparando però dopo che ho fatto le mie 3-4 serie cercando di migliorare poi vado a farmi un esercizio in cui riesco a spingere e vado ad allenare semplicemente il muscolo senza pensare troppo alla tecnica eccetera per carità c'è una tecnica dietro la chest press però rispetto alla panca è aria fresca e così via in tutti gli esercizi come dicevo all'inizio niente esercizi di isolamento perché secondo me un neofita non è in grado di esprimerci potenziale quindi magari dopo un bel po' che fate questi giochini dopo magari sei mesi si può provare a introdurre qualche esercizio di isolamento però di quello poi se ne parla quindi abbiamo sei esercizi a seduta più 1-2 per le braccia più eventualmente anche addome alla fine quindi c'è tutto frequenza almeno due volte a settimana se la fate più volte fate una A, B, A, B cioè alternate i due giorni e eventualmente comunque aumentate ogni settimana non ogni sessione quindi la prima settimana fate 3x8 la settimana dei complementari ad esempio 4x8 5x8 se no la coperta si accorcia se fate troppe frequenze scheda base funziona provatela per un po' di tempo almeno personalmente l'ho provata un sacco di volte un approccio così da buoni risultati quindi vi consiglio di provarla perché è semplice senza fronzoli e dopo che avete raggiunto buoni carichi fondamentali una buona coordinazione una buona tecnica si può pensare di passare a qualcosa un pochino più specifico elaborato però per un principiante una scheda così va benissimo se avete delle domande possibilmente che non consistano in io ho modificato così va bene lasciatemi pure un commento e noi ci vediamo al prossimo video iscriviti al canale